Roto, ma l'amore è tu Verso lo chalet Olimpo Sul cammino degli dei Cos'è quel legno che ha partito sulle spalle? E perché stai piangendo? Quanto ci vuole per lo chalet Olimpo? Solo gli dei mortali ci possono arrivare Il sentiero finisce dove inizia la parete Nessun essere umano può salire lassù Si muore Stradiero! Stradiero! Cos'è quel legno che ha partito sulle spalle? Atena Si sente lei Oro 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 Spresa Menelao vuole andare a palazzo da Elena Ulisse conosce la strada Gli fa la guida Su E Il sentiero Il sentiero Su Il sentiero Grazie a tutti.